Bella a tutti ragazzi sono San benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo su Fortnite sempre come sempre no raga e però vi devo far vedere una cosa come sempre avete visto anche voi c'è anche qua la tv no come sempre qua no? ieri l'hanno messa mi sa e quindi facciamo mettiamo il laboratorio che vi devo mostrare una cosa vaga a sabbia non so se lo sapevate già ma io ve lo voglio mostrare lo stesso e comunque raga una cosa intanto carica vi devo dire una cosa forse non so se è vero perché ho letto solamente che nella prossima season c'è Samus una skin di un gioco Samus aspettiamo che carica vi devo mostrare una cosa a sabbia sta arrivando la nuova season raga io mi sciopero il pass allora dobbiamo mandare a sabbia raga che è la quindi mi devo mandare a sabbia di genero mi sono messo Jules quello della stagione capitolo 2 stagione e mi di genero così raga perché devo mandare a sabbia perché non c'è il vivo così oggi video di mattina vabbè raga ma è troppo lontano ma nanti vi volevo mostrare una cosa aspetta magari se dovevo cambiare squadra non me lo fa vediamo raga non c'è raga scusate vediamo vediamo se sta più vicino no sempre a molli vabbè raga andiamo cerchiamo di andarci ah raga atterriamo atterriamo a cascina e prendiamo un'auto raga vedo l'ora della nuova season sono a livello 124 mi sembra no ma non ce ne sono auto a cascina no qua 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 forse ce ne è un'altra la Lamborghini ci riferiamo in un attimo allora meglio andarci a andare oh oh la Lamborghini questo è veloce raga mi metto il ping a sabbia che vi faccio vedere vi devo far vedere una cosa oh no però qua però qua è lento sul prato ok mancano mille chilometri ancora me ti volevo dire no chilometri raga scusate oh no aspettate e niente raga ok raga dai andiamo dai mi devo spiegare spero che non finisce la benzina oh oh ora no mi ha tutto il ping dai mancano pochi metri perché vi devo mostrare una cosa raga sicuramente la prossima season è degli alieni raga sicuramente ne sono sicuro da quello che vi sto mostrando sarete convinti sicuro da quello che vi sto per mostrare non so se lo sapevate già no no ora non è più buona si è buona dai ce ne so raga manca pochissimo siamo arrivati eh siamo quasi arrivati ci manca solamente pochissimi metri eh raga quando è quasi venito il carburante a forza auto no così lo spreco vabbè non ci riesce quindi vado in qui non è solo penso che metteranno samus perché ho letto ho letto una notizia quindi mi sa che lo metto ok raga siamo arrivati però il luogo dov'era ah forse è là eh no non è qua non è qua eh si è qua è qua ecco la raga è qua sono qua vedete raga qua vedete qua raga vedete questi cartellini e quindi vi volevo mostrare questo secondo me metteranno degli alieni sicuro raga e metteranno degli alieni secondo me raga perché no se no non metteranno quel giornalino oddio quel giornalino che vi ho fatto vedere comunque comunque mi sciopperò il pass raga sicuro ne sono proprio certo e spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like vi vado a vedere solamente questa notizia perché vi vado a vedere solamente queste notizie di fortnite poi se so qualcos'altro vi faccio sapere ma non penso che saprò qualcos'altro e al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti i grazie a tutti i